Ci ha raggiunti negli studi di Teleappura il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, per parlare di una questione delicata, quale l'assistenza psichiatrica. Consigliere, quali sono i problemi più rilevanti riguardanti questa questione? I problemi della psichiatria in Puglia sono fondamentalmente due. Sono la carenza assoluta di psichiatri e gli interessi privati, che naturalmente continuano a distrarre fondi pubblici per un puro tornaconto personale. Allora succede che in Puglia oggi cercare uno psichiatra è diventato veramente fare una caccia al tesoro. E questo purtroppo succede perché l'Osservatorio Nazionale delle Borse di Ristudio e il MIUR, il Ministero dell'Università della Ricerca, non comunicano tra di loro. Ci sono poche borse di studio rispetto al fabbisogno. Quindi oggi per aprire i centri di salute mentale, i dipartimenti di salute mentale, sono in attesa degli specializzanti che non appena finiscono vengono impiegati. Ed è veramente assurdo perché in questa maniera noi non riusciamo a tenere aperti i centri di salute mentale per 12 ore. E quindi succede che per 6 ore non riescono a trattare queste cronicità che naturalmente sono sempre più diffuse e si rivolgono poi agli SPDC, i reparti di psichiatria degli ospedali, o ricorrono frequentemente all'emergenza urgenza in maniera inappropriata con TSO, con trattamenti obbligatori. E allora cosa succede? Succede che è un cane che si morde la coda. Circa il 90% dei posti che in Puglia si occupano di questa patologia sono in mano al pubblico. Noi abbiamo un blocco assunzionale che non ci permette di assumere personale. L'Università, il Ministero dell'Università non rilascia borse di studio. E in tutta la Puglia noi ogni anno specializziamo 5 psichiatri a fronte di un fabbisogno che è molto più alto. In verità questo fabbisogno di specialisti è per tutte le categorie. Quindi è un discorso più ampio che a livello governativo. E io nella audizione che ho richiesto la settimana scorsa, dove c'erano i direttori del Dipartimento di Salute, dove c'erano le associazioni dei familiari, dove c'erano persone esperte di sociale che cercavano di proporre alternative per ottimizzare la spesa, ecco abbiamo riscontrato che mancano anestesisti, mancano nefrologi, mancano pediatri, mancano medici di famiglia. Non abbiamo medici e chissà perché questo numero chiuso ancora oggi insista. E quindi ecco, cosa si dovrebbe fare? Io ho proposto già a dicembre del 2016 il budget di salute, che serve per ottimizzare e riqualificare la spesa attuale che si aggira intorno ai 100 milioni di euro per tutta la Puglia. Questi percorsi terapeutici riabilitativi individuali, dove non si punta alla cronicità del paziente, bensì alla recovery, cioè alla sua integrazione socio-lavorativa. E quindi succede che oggi tutte le residenze assistite che furono stabilite da una delibera di giunta, quando c'era Vendola nel 2015, sono rimaste lettera morta. Perché c'è sempre il problema che non abbiamo personale da dedicare, perché quelle potevano addirittura essere delle case alloggio prese in affitto dalla ASL, che si sarebbe dovuto occupare poi della guardiania. Avrebbero, sarebbero probabilmente costate meno, ma sicuramente avrebbero dato una, diciamo, maggiore vivibilità a queste persone, che non vengono internate spesso in alcune strutture cosiddette pesanti, anche per 8, 10, 12 anni, quando quelle strutture sono temporanee, perché poi tu devi passare a livelli intermedi. E si chiama budget di salute PTRI. Sono cose che io ho proposto e mi hanno bocciato, che ho riproposto in una mozione. Peraltro il Ministero ha sentito all'interno del programma operativo della Regione 2017, 2016, 2018, questi percorsi che vanno sperimentati, già sperimentati in altre regioni, che dovrebbero garantire quell'integrazione delle famiglie con gli operatori del terzo settore e con i pazienti stessi, facendoli diventare un po' protagonisti delle loro vite. Ecco, gli UFE, gli utenti familiari esperti, andrebbero valorizzati. I caregiver, ecco, tutte queste figure che possano trattare la cronicità, che in questo caso è psichiatrica, fuori dalle strutture pesanti, che hanno un costo eccessivo anche di 5.000 euro al mese. Ecco, moltiplichiamoli per numeri, diventano decine e decine di milioni di euro. Quindi ecco, l'interesse è sempre quello. Il privato lucra dal sistema, per sua natura tende a fare business. Ancora oggi non è possibile trattare quelle strutture pubbliche a 24 ore. si utilizza molto la contenzione, cioè il fatto di legare i pazienti a letto, anche, ed è successo qualche tempo fa, che una paziente morisse, perché l'avevano tenuta troppo legata, e noi dovremmo bandire, cioè dovremmo cancellare la parola contenzione dal nostro vocabolario. Ci sono i pazienti dell'ortofrenico, della Divina Providenza, che stanno a Biceglie, dove io più volte sono andato, ad esempio, che sono spesso tenuti in contenzione, a cui spesso è impedito anche l'assistenza primaria. Lì vivono in un limbo. Cioè, se arriva un immigrato, la prima cosa che li facciamo è che gli affibbiamo l'acronimo STP, che sono gli stranieri temporaneamente presenti, che gli dà diritto all'assistenza sanitaria. Quelle persone dell'ortofrenico, invece, non hanno manco diritto all'assistenza, non hanno un medico di famiglia, non si capisce, sono apolidi, ecco, stanno lì ad un binario morto in attesa di morire. Ecco, con tutte queste strutture nate per carenza del pubblico, abbiamo creato tanti piccoli manicomi, ecco, al limite della legalità, e sicuramente illegittimi nell'appropriatezza. E quindi io spero che da quella seduta si possa trarre auspicio, anche se è stato veramente sconfortante vedere come l'assessorato alla sanità era completamente assente, Emiliano non c'era, non c'era Ruscitti, non c'era Negro, ecco, non c'era nessuno della politica. E queste sono scelte politiche. Le scelte politiche devono dare indirizzi agli uffici, ma se la politica è assente, non conosce i problemi, ecco, diventa sempre più facile esternalizzare, e attanto poi alla fine il costo viene spalmato sulla collettività e noi oggi dobbiamo assistere a centralizzazioni di pazienti ad Aversa, in Campania, o da Corato che li portano a San Giovanni Rotondo. E pensate che portare un paziente che non sta ragionando in quel momento in ambulanza è molto pericoloso, oltre che costoso. Quindi io spero che Emiliano si concentri un attimino sulla situazione dei pugliesi e accolga le proposte che noi abbiamo fatto e la mia mozione pende ancora in attesa di discussione e soprattutto presti ascolto agli operatori del settore, perché gli operatori del settore sono i veri detentori del sapere, loro sanno cosa andrebbe fatto. Il problema è che molti dipendenti pubblici vengono relegati in alcuni uffici, nessuno li ascolta e le decisioni li prendono altrove, dove le logiche sono diverse, sono quelle clientelari, sono quelle dell'interesse, degli amici degli amici. Questa è la situazione della psichiatria in Puglia che peraltro è estendibile e applicabile a qualsiasi altro settore della sanità che è fatta da mille facce e da mille problematiche. Quindi quello che si chiede è anche un po' di umanizzare queste cure? Infatti la sanità dovrebbe essere soprattutto umana, è questo che manca. Invece i pazienti vengono trattati come numeri, spesso come cavie, da moltiplicare per una retta quotidiana e si è perso proprio quel contatto umano, insomma, quell'effetto placebo che non costa nulla. E così tutto è diventato un business. Dalla mensa ospedaliera che da essere una cucina interna è finita all'esterno dove ti portano da mangiare delle porcherie. Perché esternalizzare vuol dire per la politica poter assumere personale amico, al cui puoi magari andare a chiedere il voto, magari qualcuno più delinquente prende pure il caffè da qualcun altro. Mentre se tu hai una cucina all'interno e offri una pietanza prelibata, uno già si sente meglio. E così per tutte le questioni. Non c'è proprio umanità. Sono diventati dei ragionieri più che dei politici. Solo che i conti, naturalmente, se non tornano, il danno è spalmato e distribuito su tutti i cittadini. Mentre quando c'è da suddividere i dividendi, si privatizzano verso gli amici del sistema che naturalmente poi li ha voluti eletti.